Presidente, come è iniziata questa maturità 2014? Allora, tutto procede bene, questa mattina abbiamo ricevuto il plico telematico relativo alla prima prova, che è la prova di italiano, le tracce sembrano abbastanza fattibili, adatti anche per il loro profilo professionale, che è quello economico-aziendale. Quindi il tema poi di carattere generale è piuttosto fattibile, e invece è un po' più dettagliato il tema che richiedeva l'analisi del testo per Quasimodo. Quindi lì in effetti se non lo hanno trattato durante l'anno scolastico incontreranno delle difficoltà. Qual è stata la traccia più gettonata? Al momento non lo sappiamo, non lo so ancora, perché siamo risaliti, quindi non abbiamo ancora i dati per poterlo dire. Domani è la seconda prova? Domani è la seconda prova, loro sono impegnati nel compito per economia d'azienda, e speriamo che vada tutto bene, così come è stato per oggi.